Ciao a tutti insiders! Eccoci qua, un paio di simbolo degli insiders di Atalanta, no? Bene. Qualcosa del genere. Ciao a tutti, eccoci qua per il primo video di React del canale. L'ospite speciale è mio figlio Leonardo, che è un grandissimo tifoso di Atalanta, però non gli piace andare allo stand, vero? Allora, oggi facciamo un React su Reca Arcadius, giocatore difensore che l'Atalanta ha preso, che andrebbe a rimpiazzare Spinazzola, dicono che è bravo quanto Spinazzola, almeno ci assomiglia, e andiamo a vedere se veramente è così. Quindi, purtroppo non ho trovato nessun video, a parte questo qua, dove possiamo vederlo mentre gioca. Quindi andiamo a vedere il video di Reca, anzi, Reca. Vediamo come si pronuncia. Allora, vediamo. Google traduttore. Dall'italiano al polacco. E andiamo a scrivere Reca Arcadius. Ecco qua. Vediamo come suona. Prova a dirlo, Leo. Qualcosa del genere. Comunque è Reza, Reza. Reza Arcadius. Allora, andiamo a vedere il video di Reza Arcadius e vediamo cosa combina. Lasciate le cuffie. Carina l'animazione. Turbo Kozak. Eba qua direi che non scapisci un tubo di quello che sta dicendo, vero Leo? Capisci qualcosa? No. Bene. Eba qua direi che non mi ha detto, vero Leo? Eba qua direi che non mi ha detto. E poi, vorrei direi che non mi ha detto, vero Leo? Prima sfida, vediamo cosa consiste Uno contro uno col portiere L'ha fatto fuori facilmente Che bel gol Io voglio che questo qua sia in partita Per vedere fare queste capriole Parata del portiere col piede Hai visto che capriole ha fatto? Si Ah, è già finita la sfida Un'altra cosa adesso Fanno qualcos'altro, vediamo Rigore Tu sei bravo a battere i rigori? Vediamo L'ha quasi preso il portiere Si Spiazzato Ah Lui è mancino Lui è mancino Adesso lo fa col destro Vediamo cosa combina col destro Quindi è un mancino Quindi per mettere dentro il cross Per mettere dentro il cross Dalla fascia sinistra Direi che va benissimo Perché non devi rientrare sul piede Sul piede Per fare il cross Quindi come arriva Può mettere direttamente il cross Di sinistro Wizzla Block Quindi Wizzla Block è la spalla In cui giocava Adesso Ben dato Vediamo cosa combina il rigore Uuuuh L'ha segnato Con gli occhi coperti Hai visto? Si Non male Adesso Deve fare i punteggi Io non capisco Perché il tipo è così incolato dietro di lui? Ma porco L'ha picchiato Non hai visto? Si Vediamo cosa fa Comunque è carino lo stadio Mi piace fare Quei seggiolini Uuuuh Quasi beccato il 20 L'angolino Mi piace lo stadio del Wizzla Block Block Ha colpito il cerchio Uuuuh L'ha preso Si Si L'ha preso Con rimbalzo però l'ha preso Adesso? Si Ma è gioco È gioco Adesso calcio d'angolo Dai segnale su calcio d'angolo Vediamo Uuuuh Mi piace Mi piace questo ragazzo qua Reza Ho sbagliato Nooo Ho sbagliato Reza Nooo I suoi compagni di squadra Anzi i suoi ex compagni di squadra Perché adesso lui viene all'Atalanta Allora Traversa Crossbar Challenge Vediamo se è più bravo di me Vediamo No Ho sbagliato la prima Ho sbagliato il secondo Dai colpisce meno uno Reza Reza Oh Eccolo lì Ha balato un po' la porta Non poteva calcare la capriola ancora? Infatti Adesso Tiro da centro campo mi sa Bello quello dove c'è il gioco Ti piace? Si Ma è male Vediamo da centro campo Fuori 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 Mi piace Fuori Fuori Questo è dentro questo è dentro Goal Cos'è che deve fare qua? Non ho capito? Ah ho capito Lui deve paleggiare Deve fare testa coscia piede testa coscia piede Però Lui è mancino però lo sta facendo col destro Non so se fa parte del gioco Non so se fa parte del gioco fare con la gamba quella non buona diciamo Però lo sta facendo col destro E' bravo però Si piace? E' bravo questo giocatore E' bravo quanto il papu Si? Si Dice che farà bene l'Atalanta Si Ah c'è il tempo anche Aiuto E' finito E' normale però Ho fatto tutto con la gamba destra Qua? Ah quello che bisogna girare sul pallone dopo andare a calciare il rigore Vediamo come se la cava qua E' un po' difficilino Guarda guarda come gira Gira la ruota Giro giro tondo casca il mondo Tutti giù per terra Tutti giù per terra Fuori Nooo Perchè si butta non si deve mai arrendere uno dell'Atalanta Bravo Leo Sui piedi Rezza Barcola barcola eh Niente è finito? Sembra che sia finito vediamo Si è finito o no? Tu capisci quello che stanno parlando? No No Niente è finito Si è finito No Ah gli regalano una maglietta? Della Wieslaplock Di Wieslaplock 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 Eh? Che spettacolo Niente è finito il video Allora Se il video vi è piaciuto Andate su Nella descrizione qua Lascerò il link del video della Canal Plus Che è quello che ha fatto la sfida con Rezza Andate la a vedere il video Lasciate un bel like E magari lasciate nei commenti Hashtag InsideAtalanta E se il nostro video vi è piaciuto Lasciate un Like E condividete sul social network Con tutti i vostri amici e tutto Per chi non è iscritto al canale Iscrivetevi al canale E attivate la campanella lì Per ricevere le notifiche Quando usciranno nuovi video Cercheremo di fare uno o due video di React settimana Quindi lasciate anche nei commenti Altri video Relazionati comunque all'Atalanta O al massimo Al mondo del calcio E faremo un React E niente Spero che vi sia piaciuto tanto Che ve lo ripropeneremo ancora Vuoi salutare? Sì Vai Non mi do Sì È il suo modo di salutare Io invece vi saluto Insiders E ci vediamo alla prossima Inside Atalanta Sempre Ti farà Atalanta Sempre Forza Atalanta Ciao Ciao Gio Gio